scusa il ritardo c'era un gruppo di ragazzini handicapaci bloccati su un albero hai ragione mi sono battuto con un cazzone in cappuccia no traffico faccio una docetta e mi tolgo la tuta non vuoi la tua sorpresa sono no vittima di un ostione anche io ho una sorpresina buon anniversario baby apri il tuo va bene va bene va bene questa è è la cosa più bella che abbia mai non ho idea di cosa sia il mio iud è una bomba no testa di cazzo è il mio contraccettivo quindi vuol dire che la tua fabbrica di bimbi ha aperto i batteri oh mio dio oh mio dio voglio voglio un maschio o una femminuccia sicuramente l'uno o l'altra grazie